cari amici di fs news io sono luca mattei e oggi vi propongo un viaggio sulla neve insieme a un campione di sci che ha ottenuto 22 vodi in carriera tre medaglie di bronzo ai campionati mondiali e due partecipazioni alle olimpiadi invernali do il mio benvenuto a giorgio rocca ciao giorgio grazie ciao piacere tutto bene partiamo subito dalla qualità dal 4 al 20 febbraio si vengono le olimpiadi invernali tu cosa ti aspetti dagli atleti azzurri ma mi aspetto grandi cose anche se nell'ultimo periodo magari abbiamo avuto un po di sfortune un po di un po di momenti critici legati ad infortuni e magari a una una temporale flessione diciamo delle dell'andatura dei nostri ragazzi e credo che comunque riusciamo a fare bene io parlo soprattutto quello sci alpino che è un po più nelle mie corde però diciamo che il periodo febbraio è quello dove tutti i preparatori gli allenatori e tutto lo staff ha cercato di concentrare sui propri atleti e i propri atleti gli atleti che abbiamo diventeranno di sicuro performanti in quell'occasione siamo ad entrare proprio nelle nelle due corde come dicevi perché gli olimpiadi invernali sono un po il filo rouge che ci porta direttamente nella alla tua carriera carriera e vita privata che hai inserito egregiamente nel nel libro dal titolo slalom vittorie sconfitte tra le curve della mia vita un libro edito da epli in cui appunto si mescolano imprese sportive e vita privata e queste sono legate da un filo conduttore che è la caduta alle olimpiadi di torino nel 2006 io vorrei ripercorrere con te quel quel periodo innanzitutto partiamo già da mesi prima insomma già quando nella fase di preparazione la stagione olimpica per me è stata la miglior stagione in carriera quindi è stato sia un pro che un contro perché comunque ho vinto cinque gare di fila nelle prime cinque gare di slalom e quindi ero leader indiscusso in quel momento in slalom sono uscito nelle ultime due gare in vista delle olimpiadi forse ho perso un po di smalto mentale soprattutto in quella fase e forse arrivarci così da favorito non è stato non è stato così semplice devo dire che però ho vissuto il momento il pre olimpico e l'inaugurazione olimpica e tutto quello che che era il contesto olimpico in maniera spettacolare perché comunque ero al top di carriera ero nel mio paese a torino è stata una un'annata dove ho raccolto tante soddisfazioni tranne quella della gara vera e propria dove dove sono caduto e dove tutti si aspettavano che rocca vincesse perché chiaramente aveva vinto cinque gare ne aveva appaccate due nella media diciamo doveva starci e anche io sapevo che dovevo starci perché comunque in combinata dove si somma il tempo della discesa libera e del e dello slalom l'anno prima e nei mondiali era arrivato terzo alle olimpiadi sono arrivato quinto a otto centesimi dal podio e quindi avevo un po di rammarico da quella gara della settimana prima rispetto alla mia e poi avevo un carico di aspettativa pazzesco perché i miei compagni di squadra nelle altre discipline discesa super gigante gigante e combinata non hanno fatto nulla quindi diciamo che si è caricato tutto lo sci alpino e le aspettative sullo sci alpino che ahimè all'epoca era la disciplina più più seguita adesso c'è anche il biathlon ci sono altre discipline nel fondo che hanno molto più visibilità rispetto a un tempo ho fatto un po fatica a mantenere la calma e a supportare la pressione e quando ero in gara forse un pensiero di troppo qualcosa di sbagliato mi ha fatto cadere io dico sempre anche ai miei figli un po da pirla però una caduta un po così che poi quando avevo la faccia nella neve è iniziato a sciogliarsi la neve ho capito che non era un sogno e che quindi ero ero nella realtà purtroppo ed ho fatto fatto fatica un po di gerire quindi l'ho anche riassunto un po nel libro è fatto sempre in quella stagione tu poi hai vinto la coppa del mondo sì diciamo che è passata un po in sordina però io a casa ho la coppa del mondo di specialità che alla quale puntavo da anni e non ero mai riuscito a concretizzare perché sono uno che di carattere o vinco o preferisco vado al massimo preferisco uscire e quindi sono sempre stato un po così anche un po stupido se vuoi nella nel modo di fare della sciata però va bene così insomma ognuno ha il proprio carattere le proprie carriere quel successo però è un po rappresentativo di tutto quello che che poi è inserito nel libro nel senso che ci sono tante cadute ma l'importante è sempre risollevarsi sì diciamo che che le carriere comunque sono abbastanza tipiche dove dove ci sono molte sconfitte quindi ci sono più sconfitte che vittorie io devo dire che nella partecipazione olimpica ho vinto molto rispetto a quante gare ho fatto quindi diciamo che ho un ottima percentuale di buona riuscita rispetto alla partecipazione e ho buttato un sacco di gare perché spesso ero secondo terzo la prima match poi sono uscito o ero primo la prima match poi sono uscito quindi diciamo che le sconfitte fanno parte della della vita di ognuno di noi se andiamo a guardare un po la la vita di ognuno e chi è un po più longimirante che ha voglia di di primeggiare anche nel lavoro e nello sport sicuramente un po di facciate le prende e devo dire che non sempre è così sbagliato alla fine la formazione di carattere la formazione sportiva anche nei giovani viene avviene attraverso lo sport e alle sconfitte sportive io ho tanti ragazzi che che siano con noi e i genitori mi dicono che da quando fanno sport e da quando si confrontano un po con gli altri fuori dal contesto scolastico nella vita scolastica poi se nello sport magari fanno un perché magari non vincono o devono imparare a perdere poi rendono molto di più anche a scuola e sono più capaci di sopportare la sconfitta come si diventa giorgio rocca con un po di fortuna e una ricerca continua della della perfezione della capacità e desiderio di mettersi in gioco di migliorarsi tutti i giorni in tutte le discese che facevo in tutte le curve che facevo cercavo di essere migliore di farmi aiutare dagli allenatori dalle persone che di cui mi fidavo e soprattutto con tanto cuore cioè tanta voglia e fame di su di di riuscire ad arrivare a migliorarmi perché la cosa importante che i nostri giovani non riescono a capire è che anche lo io ho figli ho quattro figli di cui tre adolescenti che pensano che lo youtuber abbia avuto una grande fortuna e invece non ha avuto una grande fortuna ha puntato a quell'obiettivo a quel a quella strada e si è fatto un mazzo tanto per diventare uno youtuber con uno due milioni di iscritti perché aveva una strategia e ha lottato per 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 quell'obiettivo come in tutte le cose se non lotti per un obiettivo e ci metti energia e forza e cattiveria e tanta fame tutti i giorni e tutto il tempo non ce la farei mai poi c'è chi ha più fortuna chi è più portato però non sempre quello sono un deterrente che ti può portare a raggiungere il tuo obiettivo conta nella mia esperienza conta di più il cuore la determinazione la voglia di arrivare piuttosto che le skills legate a madre natura bene giorgio io ti ringrazio sei stato gentilissimo grazie mille a voi cari amici di fs news un saluto da luca mattei ci vediamo al prossimo video